non credo che l'ingresso sia stato molto molto valido per ora 13 20 aghenier ricevuto da basi poi attacca proprio basi buona parallela 14 20 bellissimo schema con veloce dietro di piano e basi c'è che tira via completamente il muro a basi c'è bravo sberto lì che gliela data sinceramente 5 2 a servizio andrea zanotti per verona il suo flotte ricevuto da basi c'è sberto di cercare dall'altra parte jean patrie diagonale di patrie punto di milano che adesso sta ritrovando morale sta ritrovando testa sta ritrovando entusiasmo attacco alto di jean patrie nell'angolino in zona 1 questi sono gli attacchi suoi diciamo 95 intanto a servizio aghenier lui che è stato un po lo spauracchio del primo set per milano qui shikawa fermato dal muro ci riprova ancora i shikawa e questa volta la spara giusta la spara per terra 10 5 prima in diagonale è stato murato alto rigiocata e attaccato una parallela meravigliosa in no look bravo in shikawa proprio bravissimo c'era proprio il passaggio di un pallone a servizio adesso riccardo sbertoli si impallano un po geschi e kazinski poi deve attaccare questa palla zanotti milano si complica la vita da sola e allora verona può ricominciare con spirito a cercare dall'altra parte kimero ma arriva il murone a 1 di yuki shikawa grande grande muro di yuki shikawa 1 sul russo kimerov però caro basi ci devi stare un po più attento in difesa queste palle sono facili da difendere cerca di difenderle un pochino più precise 23 19 al servizio asparuo asparuo molto forte numero 8 tocco del nastro che non inganna però pesaresi buona ricezione poi shikawa senza muro trova il campo la palla sembrava fuori e infatti viene cambiata la decisione arbitrale palla fuori era stato dato inizialmente il punto a milano ma anche chi sicuramente chiede il check piazza la palla ha chiesto anche dare che sembrava fuori per piazza sta dicendo che ha chiesto il check fuori e invece piazza ha chiesto il check e la palla è in e la palla è in campo appizzicato la linea con lo schiacciamento fila di milano verona più due 15 17 a servizio zanotti il suo flott ricevuto da pesaresi sberto lì a cercare la pipe di basi ce la salva spirito poi chimer of la rigioca cosa merning palla per patrick arriva spara sul muro zanotti riesce a salvarla ma niente da fare per verona un altro punto di patrick e quando riesce a trovare le mani del muro bravo zanotti comunque a salvare questo questa palla non facile altrettanto bravo cosa vernic 23 pari ancora piano al servizio col suo flotte ricevuto ancora da bonami palla a cercare a sparuo avmurato in campo da cosa merning ma che murone dello sloveno finalmente abbiamo visto le mani di cosa vernic di là a coprire e fare ombra al pallone proprio e a sparuo continuo nella sua parabola discendente perché adesso è un altro muro fondamentale di mirano ma zanotti riceve basi c'è per sberto di che cerca patrick arriva dalla seconda john patrick punto del francese milano raggiunge il 40 un po sorpreso da questa palla un po bassa un po qui per patrick che è riuscito a fare punto passando in mezzo al muro 15 17 a servizio a sparuo la forte a sparuo riceve ishikawa sberti da cercare la pipe di basi c'è luca basi c'è milano di nuovo a contatto 16 17 abbiamo già visto in un'altra partita questa combinazione quasi due primi tempi perché ishikawa si propone con una per una palla molto bassa nuovo lui è bulgaro e adesso l'altro bulgaro kaziski imbattuta una bomba che ishikawa in qualche modo riceve poi sberti da cercare quasi c'è che chiude di nuovo il punto ma tutti vanno ad abbracciare ishikawa che ha fatto una ricezione da paura io sinceramente caro lorenzo andrei ad abbracciare sbertoli che ha fatto un palleggio veramente da fuori classe palla fino rete ha fatto una quick e basi ci ha tirato una tega nei tre metri veramente bravo sbertoli bravo 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 milano per i tre punti con sbertoli tagliata la riceve a genie spirito a cercare dall'altra parte svaruov milano la difende può contraattaccare sbertoli a cercare proprio ishikawa e shikawa chi chi ishikawa milano si porta a casa i tre punti sconfiggio una diretta avversaria con una prestazione convincente aveva iniziato male giorgio ma poi è alzato la testa